Salve gente, benvenuti in questo nuovo episodio di Metroid Hot M Ok, vi ho dato un piccolo assaggio di questo settore 1 con tutte le sue belle creature della natura e... direi di continuare come sto facendo adesso tanti caniboli di merda non potete mangiarmi wow sei distesa oh ma lo finiscono mai ma i certi mostri qua sembrano dei pokemon chi cavolo era quell'urlo? che cazzo è il pushapalla? muori una specie di armadillo voilà se ci sono altri si a quanto vale un attimo riti la nostra strategica picchia spero sono più tutte loro e vai così wow che mossa abbastanza questo devo caicarmi la vita non c'è bisogno per adesso vabbè darlo permesso che attacco ok di qui è chiuso ora di qua quante piante quante piante minchia non è che qua il contropoto lo hai vero? ok che pietra che pietra che pietra io così metto un po' Grandissima Ok Unico Qua non sei niente Di sospetto Adesso passato non sei nessuno Oh beh Qua è chiuso Prudenza Prudenza Quando ho studiato la violenza che questo creature ha portato Ho sentito qualcosa nell'air La presenza di una intelligenza dark Vediamo un po' Che cosa Cosa trovo In alto Non si sa mai Tutto qua il cavolo Tenevano Un'anaconda Un alien Un'anaconda 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 Ah aspetta Un'anaconda Un'anaconda Iniziamo il cercatore Ok beh forse fuori fuori dalla porta non c'è niente sul muro non c'è assolutamente niente che di solito alcuni mostri li attacchano dall'alto la pianta è in acqua tutto molto sospetto e poi c'è qualcosa qui ma cosa aspetta forse per terra si per terra per terra no per terra cavolo capito che è un cercatore quello forse mi si vuole ricercare qualcosa raga sono insieme sai dove guardare dove guardare dove guardare io non so nooo nooo si controllo questo controllo qui va bene ora me ne vado ha sprecato tempo eh quando non si ricordano le cose quando si gioca tipo non so per la prima volta capito questo guarda un po' ma questo non c'è la prima guarda un po' ma questo non c'è la prima non c'è la prima guarda un po' ma questo non c'è la prima guarda un problema non c'è la prima fare la sulle mie uova dietro guarda forse può solo quello da qua ok ok quando ho capito capiti qualcosa perchè non ti capisco per ora allora con calma con calma ok di tutto ritorno qua ok qui ho trovato un cadavio un cercatore giusto ok poi ho guardato in giro inutilmente poi sono ritornato qui entrato c'era questa era un coso qui che non c'era prima c'era un buco qui quando non si attiva nulla cioè non schiaccio nulla quindi devo per forza entrare nella buca e fare altro e fare altro piano piano grazie ma guarda che non va c'era sicuramente qualcosa che non mi inquadra non capisco però cosa c'è un buco qua c'è un pannello qualcosa perché c'è un senso qua altrimenti c'era un buco Deve essere qualcosa Ma ti apri gli occhi Sì ho capito che lì c'è il coso in pannello Ma qua ci deve essere qualcosa Ecco i momenti in cui io vado in confusione su questo gioco raga Aspetta forse devo semplicemente ritornare indietro no? Vediamo la mappa Sì Devo semplicemente andare indietro Forse no 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 La forza Ah sì Si ho preso giusto Ho dovuto andare indietro Ok Vediamo cosa c'è qua fuori Ah ah Sei lì ti ho visto Quello c'è qua È un Motrinciato lo rinocuo Samus Procedi through the hatch I just unlocked Your next destination is a little further ahead Ok la porta è aperta Comunque quel piccoletto Non aveva l'area pericolosa Eccolo qua di nuovo che appare Il suo sguardo è un po' inquietante Cosa ne pensate voi Di quella sottospecie di pokemon E' un po' inquietante E' uno e due e tre Eh C'è un altro qui avanti Di bocciolo Posso andare avanti perchè c'è una battiera Tanto so dove il carro lo ribossero di smerza e rompe le valle Ok qua non posso naturalmente andare avanti Quindi si deve essere per forza qualcosa Ok computer Voilà E apparì una porta che bello Infessata Però Che grande Sono del Grand Canyon Di un posto così più che insetti mi sarei Non so aspettato anche io non so un grosso mostro Bello grosso ma per ora non vedo niente del genere Ok qua devo per forza salire Qualche modo Bingo Ah Purtroppo quello lì non posso ancora usarlo perchè non ho il rampino No Questa Questa Per ora qui è complicato andare avanti Molto complicato Non riesco a capire dove devo andare Ecco Eccolo la Eccolo la Il terminale Cosa è la cascata Bingo Che già io che sono Ah, ecco Voilà Terminale, sto arrivando E senza neanche Senza problemi, ecco Qualcosa si muove E' molto sospetto Quanto scommetto che si attiverà Appena ha terminato il finale Mi attacca, si scommetto Ora qua le cose sono più chiare E si è attivato quel coso Quella spetta di Truzzo Voilà Ok, quello è la Fermo Inquodare e fuoco Guarda, eliminato da così lontano Per me si era Bruccato qua Aspetta un po' Eh, li avevo visto Non me la fate a me Buon evitato Hoppa Hoppa Voilà La vantaggio Via E sapete cosa vuol dire Questa raga Che questo Episodio Finisse Qui E ci vediamo Al prossimo Episodio Ciao Ciao